Il Centro Diagnostico Fisiorem si arricchisce delle prestazioni di due esperti in fisioterapia. Feliciano Di Blasi, noto alla platea degli sportivi, e il dottore Pietro Tamburo. Hanno fatto squadra per applicare una metodologia per il trattamento di traumi non soltanto tra gli atleti. È nata una nuova avventura professionale tra Fisiorem e due notissimi professionisti che da 40 anni sono impegnati nel benessere psicofisico sia come miglioramento della persona che come trattamento fisioterapico. Con questo metodo è possibile quindi intervenire sulla causa primaria che ha generato lo squilibrio posturale. Il format creato da me è frutto di 40 anni di esperienza e quindi ci dà dei risultati ottimi per quanto riguarda l'ottimizzazione della funzione posturale. Quindi lavoriamo a 360 gradi sulle vie d'ingresso del sistema tonico posturale andando a togliere tutte quelle problematiche che vanno a inviciare la funzione sia biomeccanica, sia respiratoria, sia emozionale. Quindi lavoriamo in un format che lavora a 360 gradi su tutte le problematiche del corpo umano. La velocità del recupero sia dell'atleta infortunato ma soprattutto abbiamo creato un format che lavora su tutte le problematiche dei blocchi funzionali dell'Atlante. L'Atlante è la prima vertebra che crea tante problematiche quando subisce un'alterazione della sua funzione. Soprattutto dopo un colpo di frusta, dopo una caduta sull'osso sacro, dopo una bruttissima distorsione oppure delle posture viziate oggi che vengono assunte un po' da tutti con l'utilizzo dei telefonini, del tablet e contatto. Stiamo cercando, grazie a delle tecnologie nuove, un nuovo sistema di riabilitare questo tipo di problema che è in una fase molto crescente. Riduzione dell'incidenza dell'infortunio e accelerazione dei tempi di guarigione sono i principali obiettivi del metodo del duo Tamburo di Blasi. Io ho fatto 40 anni di calcio nelle migliori squadre del mondo e penso di aver appreso delle cose che posso trasmettere e che sono molto importanti per il lavoro sulla persona. Ho avuto la fortuna di incontrare Pietro Tamburo e insieme a lui di elaborare una nuova idea che possa coinvolgere sia gli sportivi sia le persone che hanno bisogno di benessere. Sicuramente il metodo è un metodo innovativo, lavoreremo sulla persona, lavoreremo sul sistema psicofisico e lavoreremo anche sugli atleti. Io quando parlo di atleti non intendo solo gli atleti di elite ma intendo anche chi fa sport perché lo sport ben fatto vuol dire salute. Perciò punteremo molto sul discorso della salute in genere e punteremo anche sul discorso riabilitativo. Avremo proprio tutti gli strumenti per poter curare sia le persone che gli atleti. Grazie a tutti.